Allora, patto di piagge più vivo che mai, ieri avete avuto un incontro e avete stabilito un po' di linee programmatiche. Sì, abbiamo di nuovo preso atto che la Giunta regionale non solo ha distrutto la sanità nell'entroterra, ma sta massacrando anche quella della costa. Non si può rimanere fermi di fronte ad una regione che sta facendo pagare un prezzo altissimo ai cittadini di questa provincia per scelte scellerate che non condividiamo. Avete deciso anche di fare un'azione dimostrativa, volete scendere in campo come sindaci, come primi cittadini? Continueremo la nostra battaglia che finora abbiamo gestito nelle sedi istituzionali. Ci siamo resi conto che non abbiamo interlocutori in regione perché questa regione esorda le reali istanze dei cittadini, dei cittadini di tutta la regione Marche, ma in modo particolare della nostra provincia. Quindi abbiamo deciso di scendere in piazza con le fasce tricolori in mezzo ai cittadini per informarli di quello che sta accadendo. E quello che sta accadendo è davvero grave ed è davvero grave che lo faccia un pesarese con la complicità anche dei sindaci di questa provincia, soprattutto delle città principali della nostra provincia. La sanità privata nel pubblico, perché non vi piace? È quello strumento utilizzato dalla politica regionale per distruggere la sanità pubblica, quella sanità che ci ha garantito il diritto alla salute sino ad oggi, per far strada al business dei privati. Noi non vogliamo la sanità americana, dove si può curare soltanto chi ha un'assicurazione o chi ha un patrimonio tale da potergli garantire un ricovero ospedaliero. Noi vogliamo una sanità pubblica che sia competitiva con la sanità privata, ma una sanità privata che possa fare investimenti propri e non utilizzare le risorse pubbliche. Con le risorse pubbliche noi garantiamo il diritto alla salute e dobbiamo garantire il diritto alla salute dei cittadini della nostra provincia. Se si riflettesse un attimo, noi potremmo verificare come il bilancio della regione Marche è quasi completamente assorbito dai costi per la sanità, ossia oltre l'80% del bilancio della regione Marche destinato alla sanità. Qualcuno vuole regalare queste risorse al privato, ma regalando queste risorse al privato noi regaleremmo il completo controllo della regione Marche ai privati. Questo sta facendo Ceriscioli, la sua giunta regionale e i partiti che lo sostengono.